Ciao a tutti, sono Aldo Masolo e questo è il mio canale YouTube. Oggi sono qui di nuovo per la terza volta, visto che comunque il format abbiamo visto che vi piace, con il mio amico Daniele che è dietro. Ciao a tutti! E oggi faremo il nostro terzo allenamento assieme. Le altre volte vi abbiamo fatto vedere la schiena e il petto, oggi invece andremo ad allenare le braccia, quindi nella totalità, bicipiti e tricipiti. Quindi lavoreremo come primo esercizio con un bel superset, con un bel pushdown con l'asta dritta, in superset con un curl con la corda. Faremo un 4x12, poi dopo faremo un altro esercizio sempre così in superset, e poi dopo alla fine invece faremo due esercizi individuali, quindi bicipiti e tricipiti in drop set. E penso che i tricipiti e i bicipiti li avremo bellamente distrutti. Quindi adesso partiamo. Io qui ho il mio bel during workout, in cui all'interno abbiamo aminoacidi essenziali e maltodestrine, quindi per dare il 100% nell'allenamento, sempre ovviamente tutto vitastrong. Che dire? Il rumore di banni là in fondo ci ha rinvigorito ancora di più, e adesso partiamo. Pushdown qui e il curl lì. Ok? Adesso facciamo un attimo una serie di riscaldamento, per vedere di trovare un attimo di movimento. Io ho un po' malo al gomito. Non metto la fascia? No. Però non deve avere. E poi andiamo subito qui. Lo prendiamo qui. Ok. Lo prendiamo così. Sì. Ok. Ci mettiamo un po' indietro. Bello, sì. Ok. Ok. Quindi facciamo quattro serie, quattro per dieci, dodici. Andiamo su col peso. Partiamo? Sì. Vai. Eventualmente facciamo più ripetizioni. Quanto ti metti già? Adesso vediamo. Faccio 21. Piuttosto ne facciamo 20, eh. Ok. Alla prima serie, così. Così cerco di anche con le mani al gomito. 10. 1. 4. 5. 6. 6. 1. 1. 10. Era leggero quello, eh. Ne ho fatte 20, se ne stavano anche 30. Va bene. Dopo. Siamo riscaldando. Anche qui 20. Questo secondo me è una bella tipologia di allenamento perché è veloce. Io faccio un po' fatica a stendere il braccio completamente. Però, se non esagero col peso, cerco di concentrarmi un po' più sull'esecuzione. Magari teniamo i numeri un pochettino un po' più alti. Quindi facciamo delle ripetizioni. Magari un po' più di ripetizioni anziché puntare al peso. Poi ovviamente teniamo poco riposo. Uno finito attaccato a quell'altro. Allora, metto due in più, eh. E piuttosto ne facciamo 15. Un pochettino in più. Lo fate 20 anche qui. Va bene. Hai aumentato qua? Sì. Qui ci siamo già un po' di più. Cos'hai messo due in più? Oh, io ho fatto la roba bene. Non hai aumentato qui? No. Siamo 20 anche qui. Qui quindi. Siamo 4 e 20 lì. Allora, adesso aumentiamo. Fai un 3 secondi così per 20. Facciamo le prime due serie per 20. Così. Facciamo pump e poi dopo le ultime. Le facciamo 3. Quindi cambiamo un po' le carte in tavola. Ok. Qui 2? Sì. Ok. Dai Mo. Adesso 3 così, eh. Dai. Ok. Adesso 3. Adesso 3. Adesso 3. inizio a sentirci. Perfetto. Quindi. Lavoriamo tutto il braccio. Comunque teniamo il sangue nella stessa zona. Poi passiamo davanti e dietro. Bello, eh? Si sente, si sente, si. Ne facciamo altre due così, eh? Elementato? Si. Ok. Ok. No, ci schiava, vai. buona dai il rapporto più pesante è questo di queste è vero? è vero andiamo l'ultima dai ok faccia male tutto bravo bravissimo 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 Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, bravi, ci riposiamo un attimo e poi cambiamo esercizio, secondo super set, abbiamo la fortuna di avere delle bellissime macchine come potete vedere, ve le faccio vedere, quindi andremo a fare in super set questa macchina per i bicipiti e quella per i tricipiti in super set, sempre 12 ripetizioni, adesso siamo caldi quindi anche qui cerchiamo il peso giusto, eventualmente se ne abbiamo di più ne facciamo 15-18 e poi andremo a alzare il peso in basso ai nostri genzi. Oggi le facciamo con i fat grips, quindi per tenere le mani un po' più larghe, io non noto una gran differenza, una grande vantaggio ad utilizzarlo, li abbiamo qui, proviamo, giustamente, no? Quanto peso metti? Mi ha ancora anche? No, no, è sempre stato così basso qui? No, no, è sempre stato alto, no, no, ok, è leggero, ma è bello però, c'è come l'è? Lavora bene perché non usi? Bello, bello dove è? Io lo faccio sempre singolo Bravo Oh, Dani E qui? Si vede subito E lì dove passi? Ma questa l'ha spostata? Per me l'ha spostata un po' indietro Ok Questa non lo so perché non lo so, sono sincero, non lo faccio quasi mai Non lo so perché, però non lo faccio più mai Senti il gometro io Io non lo faccio perché il gometro Eh, ma lo sento comunque No, io non lo faccio perché sento il gometro Vai, i pesi vanno bene Bella Questo è bellissimo Oh, gran pump Non c'è sempre Poi non stringelo la mano, eh No Tiena l'ha aperta perché tanto non ce la fai stringela Senti com'è Stendi un po' di più se riesci Appoggia il pacco pace se riesci Dai, appoggialo Oh Dio boh Ottimo questo Ok Siediti Prima posizione i gomiti Ok Ok Vai Buono Tieni giù il gomiti Dai, bravissimo Si senta, eh Si sente, eh Sono delle libere, sono delle zanzale, è vero? Si sente Prima, lo che pensavo Probabilmente è un allenamento leggero di braccia Che non sia neanche a un terzo Arriviamo che abbiamo delle braccia gonfe come quelle di un torello Come dei torellini Fatti vedere com'è Che inizia Iniziamo a descercare Inizia un po' inizia un po' inizia un po', guarda che bene Grande Ok Dai, eh Lo faccio lo fai bene te, oh A me condiziona un po' Fai addio Forse devo stare un po' in avanti Andate io Si lavora bene con questi, eh Ti lavora bene con questi Io si Fazio Fazio Si Fazio Ok Dai Dai, dai, dai Dai Siamo ancora due qui, eh Dai Prima posizionati In avanti con i gomiti Ok Vai Perfetto Vai bene? Benissimo Ok Dai Dai Brucia, eh Ok 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 danni giù di bene quindi dai dopo abbiamo l'altra serie dai 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 non stai cari gomiti poi terminata questa abbiamo finito con il super set e andiamo a fare un esercizio di tricipiti uno di bicipiti con il drop set tre ne facciamo ok si c'è l'ultima qui facciamo potremmo fare Carla Martello cosa dici assieme perché sai che io quando faccio i calo alternati ho comunque braccio singolo dopo un po' mi stanco soprattutto quando c'è il drop set che è lunghissimo quindi invece facendolo assieme riduci anche il tempo non che riduci lo sforzo perché lo sforzo è sempre quello però riduci il tempo che secondo me sta lì un minuto e mezzo esatto e quindi ci riusciamo a concentrare un po' più sull'esercizio perché sennò perdiamo secondo me alla fine perdo di concentrazione questo perlomeno capita a me poi perdo di concentrare un po' mi guarda tutto qui l'ho visto dai l'ultima ho visto perfetto forza eh andiamo l'ultima dai forza eh dai dai bravo questo è cedimento lui qui è arrivato a cedimento lo metto qui così lo vedete dai eh tieni i giambiti giù eh due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici bravo cambiamo esercizio e ci vediamo fra pochissimo facciamo i manubri a martello assieme come abbiamo detto poi anche prima mentre facciamo l'altro esercizio per cercare dirittura il tempo sotto allenamento sotto diciamo esercizio facciamo dieci 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 sono diciotto sedici e quattordici ok quindi adesso partiamo ok ci siamo forza ok 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 per ora fare un po' di più qui ne ho fatto 12 appoggia bravo ok perfetto vediamo come viene perfetto come vai? bene mi fai tenere quasi qua perché così non stringo il peso esatto appoggiamo con la mano nella parte alta del peso in modo tale che tendiamo sempre perché lui tende sempre a stringere fortissimo i pugni invece non conta niente dai 10 dai questo è un bel allenamento dai 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 Dani ok è perfetto io vedo di farne 12 12-12-12 è perfetto io vado benissimo mi va veramente bene ne facciamo tre non è frequente che alleniamo le braccia assieme era da anni un bel po' sai un bel allenamento di braccia ha sempre il suo perché purtroppo risulta corto che poi è corto per modo di dire perché poi non abbiamo l'oretta ce la fai sentire poi non abbiamo tenuto riposo no ok 12 sempre appoggiato qui pugno lento esatto e via no sono cose che io non ci credevo quando me le insegnava dopo tanti anni di allenamento a non stringere perché perdi metà della forza solo tenere invece lasciandolo libero e poi la mano deve essere poi se no lavora solo gli ambracci lavora molto di più infatti vuol dire sono piccole cose che una volta non ci guardavo neanche eravamo bambini non ci guardavo si prendevi anche con i denti però col tempo si trattazione sempre tutto le ho fatte 12 sempre dai dai posso fare di più faccio 14 14 14 14 se no ti ho detto 20 fai 20 18 va bene questa è pampa va benissimo cambia niente siamo al terzo esercizio dai Dani bravo quindi tenete sempre il più possibile la mano lenta dai dai 6 7 8 9 10 dai dai Dani questi troppo 7 sono quelli che mi fanno ci fanno bruciare in assoluto di più dai dai bravo ok adesso bevo un po' ne faccio l'ultima ne faccio provare a fare 14 poi facciamo l'ultimo esercizio di tricipiti e vi salutiamo e andiamo sotto la doccia ok 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 uh 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 Ehi, ehi, ehi. Balla lui. Quanto non porre il cielo? È impegnativo, 14 è impegnativo. Bello! Ce l'ho fatta bene. Ci stanno anche 16. Eh? Sì. Che forza. Si sta recuperando i miei cibi anche qui. Ma proprio. Sono meglio. Sono meglio. Dai. Allora va malissimo. Bruciano eh. Bello. Va malissimo. Dai, dai, dai. Abbiamo solo l'ultimo esercizio dei tre cibi. Dai, dai, dai. Che frigono. Altro che cicrullina. Come è che si chiama, Banni, quella che mettono nel pre-workout che gli dà quella sensazione di... La betalanina che ti dà il frizzino. Ecco. Altro che betalanina. Questo è il frizzino da lavoro. è quello. È quella, sì. No, a 100-200. Da lunedì a 0-100. E sta pianzendo o ridendo? Non lo sappiamo. Allora, facciamo l'ultimo esercizio dei tre cibi per terminare il nostro breve ma concentrato e conciso allenamento. Allora, visto il fatto che io mi sono operato e quindi non ho ancora il trecipite sinistro che ha la stessa forza del trecipite destro, cercherò, cercheremo di fare degli esercizi, diciamo, dove le braccia lavorano in modo indipendente. E quindi potrò ottenere un peso differente da un braccio a un altro. Cosa facciamo? Facciamo un push down con le maniglie assieme. Quindi sul braccio destra avrò un peso, su quello sinistro un altro. E lo faremo in drop set. Quindi faremo 10 più 10 più 10. No, lascia, lascia il peso. Era 0. Lo fate 30. Ho sbagliato il peso. Allora possiamo partire da... Te parti con due push... troppo per me. 8. Così, per me è troppo lo stesso, ma vediamo. Allora facciamo 16. Mettili uguali dai pesi ovviamente, eh. Sì. Vai. Esatto, il gomito non esageratamente stretto, ma neanche troppo alto. Una via di mezzo. Anche perché comunque sia con i suoi volumi farebbe fatica. Come vai? Buonissimo. Lasciane uno che dopo vengono calciare il peso. Vai. Dai. Vai. Se si tiene il giusto gommito, come dicevi già. dai. Ok. Dai. Lavora benissimo. Dai. Brucia. Brucia. Non brucia neanche tanto il tricipite. È pieno, vero? Dai. Non brucia come il tricipite. No. È diverso. Però... Quanta bevità di peso? 18. Però si fa bene anche... 18 o 16? Scusami, siamo andati... 16. Si fa anche 18, Allo. Però... è impegnativo 18. Certo. Io faccio 13 e 16. Poi vediamo. Si. No. No. Si fa. Si fa, si fa. Permetti come ne fare 18 e 21 come mettevo io. Bravissima. Provo a fare 18 e 18? Dai. Vediamo. Dai, dai. Vediamo se ce la fa. Si sta. Bravo. Guarda lì. Madonna. Buonissimo. Bravo. Ah. 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 Uno da... Si, si. Listo. Vai. Ah. 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 Dai l'ultimo eh. Bravo. Tutti due uguali guarda, quindi per me... come forza... Forse ti farà un po' più male. Ah. 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 si lo fate 8 però è uguale 8 9 perché ha seduto il braccio sinistro e visto però facendo lo stesso però da 13 che avessi è andato a 18 quindi è tutto di guadagnato non senti un po la spalla anche no assolutamente dai dai io sento che inizia a bruciarmi dai 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 buono non l'avevi il 21 non avevamo il 21 no 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 l'ho spattaccato si si non ce l'avevamo spattaccato stagione allora facciamo l'ultima serie qui però si sente soprattutto sento questo perché si vede che mi sto concentrando ma non quando lo fai dopo che lascia boom dai come prima dai quello che ci stanno ci stanno tutte uno in più invece che uno in meno bravo prima andata l'ultima dieci dai danni che l'ultima abbiamo finito dai 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 poi guarda cosa facciamo per finire guarda ancora si si guarda tutte quelle che ci stanno una dire morire Morire Fai il tal lo faccio anch'io Posso migliorare 10 Fate 30, una trentina Fate 30 Dai 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 Dai, quella 10 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Grande, come sempre Bello lì Allora, cosa possiamo dire? Io me lo abbraccio e basta Pensavamo che fosse un allenamento poco bello da far vedere Invece a mio avviso è venuto qualcosa di carino Esatto Se il video vi è piaciuto mettete un like Mettete i vostri commenti ovviamente sotto al video sia positivi che negativi Iscrivetevi al mio canale Soprattutto accendete le campanelle Per quando appunto usciranno dei nuovi video Ciao a tutti e al prossimo video Vi salito Come sempre cosivo Aspa Grazie a tutti